Mobilità limitata in centro di Pescarata, ieri attivo il cantiere per i lavori di riqualificazione con rifacimento della pista ciclabile di Corso Vittorio Emanuele II. Un intervento criticato soprattutto nei tempi dalle associazioni di commercianti, almeno fino all'incontro dell'altro giorno con l'assessore ai lavori pubblici Luigi Albore Mascia. Devo ringraziare tutti i rappresentanti delle associazioni produttive. C'è stata un'intesa cercata faticosamente ma raggiunta con ragionevolezza. E con proposte concrete anche da parte dell'amministrazione proprio sull'organizzazione dei lavori di Corso Vittorio Emanuele. L'ordinanza sulla viabilità suddivide l'intervento in due fasi. La prima dispone dal 31 luglio al 21 agosto il divieto di transito di sosta e fermata in Corso Vittorio Emanuele II. Il divieto di accesso nel tratto compreso da via Genova a via Emilia ad esclusione dei cittadini residenti. Nella fase 2 ci sarà il divieto di transito di sosta e di fermata in Corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra via Emilia e via Genova. Presumibilmente dal 21 agosto all'8 settembre, termine previsto dei lavori. Divieto di accesso nel tratto compreso tra Corso Umberto e via Emilia ad esclusione dei cittadini residenti e dei soci dell'associazione dopo lavoro ferroviario di Pescara. Tempi cadenzati tenendo conto comunque intanto della variabile climatica, tenendo conto del necessario periodo di riposo delle maestranze e dell'impresa impegnata, tenendo conto anche di eventuali imprevisti che speriamo non ci siano. Rientrata anche un'ultima presunta polemica interna alla maggioranza di centrodestra sulle pensiline. Potrebbero, dico potrebbero, avere un impatto forse negativo sulle vetrine e sulle insegne, ma come dico sempre vediamola finita. Al lavoro finito sono sicura che se qualora qualche disagio si dovesse presentare saremo pronti nel modificare, comunque ne parlerò anche con il vice sindaco Gianni Santilli, qualora ci fossero delle perplessità o delle cose che non dovessero andare bene, le rivedremo. Un restyling di Corso Vittorio Emanuele e anche una pista ciclabile. Sì, diciamo che il primo movens di questo intervento è quello di creare una viabilità ciclabile anche su Corso Vittorio Emanuele, che sia comunque coniugabile anche con la viabilità ordinaria, ma dall'altra c'è anche la grande opportunità comunque di riqualificare quel tratto di Corso Vittorio Emanuele che ha necessità assolutamente di un intervento.